Noi siamo Nasi Ioso, nel 1993. Mi nasce i gruppi aumentano da S91. Il nostro posto è un posto di tenore, di un gruppo di ballo. Abbiamo una quarantina di persone. È culturale. Abbiamo definito la lega di narrare, di mettere in mostra tutti noi. Abbiamo noi. Noi sono orgolesi, una comunità orgolesa. Quando noi stiamo i nostri strumenti, noi siamo la pandella di orgòsolo. Rappresentiamo orgòsolo. Abbiamo il legale di orgolesi, per mantenere la lega nostra. E ci siamo della lingua. E tutti questi valori erano il manteso e il difeso scuro. All'argomento era uno tutt'uno. O mentre il mondo va da piantare, va da animali, ci sono tutti differenti. E quasi tutto va dalla gente, dalla comunità, dalla stupro. Ci sono tutti differenti. Differente la lingua, sul modo di andare, sul modo di vivere. Viva, viva Sanlegria, viva, viva Sanlegria. E a terra ci sono inganni, buoni principi or danni, borde di Josè Maria. A bordo s'hera, Bina viva, Bina viva, Bina viva, Bina viva, Bina viva, Tutta questa cultura, tutto questo gli animali, tutto il loro giudizio che ci sta dall'antica dell'altà, tutta un'alta, arriverà in un'altra cosa mi mostra, dovrò donare a tutti il mondo. Noi si giriamo un po' tutto il giardino a cominciare da questa gesta nostra, di ogni comunità di noi, e sia da più suzanto della vita che viene da questa o sia però viene da questa gesta. Noi hanno fatto piagere e hanno fatto un viaggio a rappresentare tutto il giardino, andò su Papa Francisco e venivano con la nostra prima visita al pastorale a questa giardina. Essendo bramoso di gioviare tutti i popoli del mondo, le comunità, i minori, abbiamo fatto delle esperienze in fuori e quindi abbiamo avuto l'occasione di essere da fuori, siamo arrivati in Francia, siamo arrivati in Spagna, siamo arrivati in Ruizera, Germania, siamo arrivati a Bulgaria... E questo è una bellezza, una delle cose belle di questa esperienza nostra, che si dov'è essere da venire solo i socii, è un'esperienza di gioviare altre le cose, appunto, e delle nostre e delle istimali. Grazie per la visione!